Allora, oggi ci occupiamo di trasporti, o meglio di dati relativi ai trasporti, un argomento che avevo già lanciato un po' di tempo fa come ESCA e oggi è arrivato il momento di farsi del male, non tantissimo ma un pochino, per riuscire a capire come trattare questi tipi di informazioni. Forse è la prima volta in cui mettiamo le mani su un insieme di dati reale e non addomesticato, diciamo così, per gli scopi del corso. Il dizionario anche era un dataset reale, diciamo così, di struttura soprattutto, abbastanza limitata, abbastanza semplificata. Allora, iniziamo, partiamo da capire di che cosa si tratta, quali dati sono e poi per gradi cercheremo di imparare un po' come fare a gestirli, a utilizzarli nei nostri programmi, da cui poi chiaramente potranno scaturire moltissimi problemini e problemucci che possiamo cercare di risolvere. Allora, inizio a raccontarvi che cos'è questa sigla e che cosa significa, avendo in mente che noi vorremmo costruire delle applicazioni che lavorino, ottimizzino, facendo delle ricerche, delle ottimizzazioni, delle scoperte all'interno delle reti dei trasporti. Allora, per rimanere un pochino campanilista, abbiamo, anche perché poi alla fine sono cose che uno conosce perché le vive tutti i giorni, quindi un po' meno astratto, ho pensato di utilizzare come esempi due tipi di rete di trasporti. Quella che vedete alla vostra sinistra è forse la più nota perché è la rete urbana dei trasporti pubblici torinesi, famosa rete di GTT. Questa è la versione metodizzata della fotografia, delle mappe che trovate ad ogni fermata degli autobus, dei tram e della metropolitana, che è abbastanza già complessa come rete. Ci sono moltissime linee, con moltissime fermate, molte e molte corse al giorno per ciascuna delle linee. Quindi è un'altra sette abbastanza corposa. Per farci le ossa ne prendiamo un'altra un pochino più semplice, che è quello che è indicato alla nostra destra, che da un paio d'anni o giù di lì, si sono inventati una cosa che si chiama servizio ferroviario metropolitano, che di fatto ha significato riorganizzare in modo leggermente diverso e sotto una gestione più o meno unificata delle linee di trasporto che esistevano già, in buona parte esistevano già, però hanno un pochino razionalizzato gli orari e uniformato alcuni tipi di fermate, di percorsi. Per chi non lo conosce, il tentativo che è stato fatto era riprendere linee extraurbane ferroviarie esistenti, quindi linee su cui viaggiavano normalmente i treni regionali, in buona parte delle ferrovie dello Stato, ma in alcuni casi anche il GTT, quindi quella che va verso Chieri, quella che va verso Susa, quella che va verso Rivarolo, quella che va verso Chivasso e poi verso Sud, Moncaglieri-Pinerolo, Alba-Bra, eccetera, e Asti, sono delle linee ferroviarie esistenti che sono state in parte unificate, questo in realtà era già precedente, ad esempio se una volta c'era una linea a Torino, Rivarolo, Ponte, e l'altra linea a Torino, quella che va a Chieri, e anziché trattarle come linee separate, hanno semplicemente unito i due capolinea, per cui tre, anziché fermarsi a Torino e tornare indietro, arriva fino all'altra linea, quindi meno carico sulle stazioni intermedie quelle cittadine e al fine più treni in circolazione. Operazioni di questo genere che vanno avanti da anni. L'altra cosa che hanno fatto, diciamo così, è quella di utilizzare le fermate metropolitane, quindi quelle all'interno della città, facendo in modo che i treni regionali, questi treni, diciamo così, aderenti al servizio ferroviario metropolitano, fermassero in tutte queste stazioni, creando una sorta, diciamo così, poco nota di metropolitana nord-sud di Torino. La metropolitana che esiste è essenzialmente Stovec, se va da Forso Francia a Rivoli fino al centro e poi fa l'ultimo tratto, la porta nuova verso l'Ingotto in direzione sud. Però la parte di Torino nord non è assolutamente servita. Queste linee ferroviarie invece entrano, fanno parte del cosiddetto passante ferroviario torinese, una cosa che da 30 anni ci sta lavorando, e è fatta in una serie di stazioni che sono collocate appunto nell'asso nord-sud. Partiamo da nord, la prima stazione che ho incontrato è Torino Stura, poi stendiamo un velo pietoso su qualsiasi in mezzo, poi c'è Torino Porta Susa e poi la linea prosegue verso Torino Lingotto, che è la stazione di uscita dall'area metropolitana, perché dopo c'è Morcalieri e quello di questo genere. Sono stazioni di questo genere. In realtà, oltre alle stazioni che ho citato, c'è una nuova stazione in mezzo, quella su cui tende il velo pietoso, che si chiama Rebaudengo Fossata, perché è fatta in mezzo a nulla, quindi non è molto integrata come stazione, uscite da lì, li trovate con niente intorno, e che non è invece integrata con la vecchia stazione d'ora, che forse qualcuno di voi si ricorda, esisteva, poi l'antirata giù, poi il lavoro del passante. Quindi, diciamo che in termini di integrazione ci sono ancora dei passaggi da fare. Però, è una rete che sta funzionando, soprattutto su quest'asse nord-sud, se voi avete bisogno di spostarvi, c'è un treno ogni 10-15 minuti, quindi sicuramente se dovete andare, che non so, mi dico un esempio, allo shandy corso Giulio Cesare, fate prima con questo, che non col tram, col quattro, che ci mette una vita in mezzo, è un sistema che esiste. Allora, la struttura simile a questa è ovviamente più semplice, perché il numero di fermate, il numero di pallini che vedete qua, è enormemente inferiore, poi ci mettermo i numeri, è di molto inferiore rispetto a quanto avete nella rettortale. Quindi, giocheremo con questi due, che comunque non è piccolo, nel senso che io l'anno scorso avevo cominciato a caricare i dati di questo sistema a mano, devo dire che mi è passata la pazienza, ma non sono arrivato circa a metà, perché sembrano non molte fermate, ma ho provato a elencarle tutte, elencarle tratte, eccetera, comunque hanno una certa dimensione. Questi sono i giocattoli su cui giochiamo. In realtà, il formato dei dati rappresentati da questi due signori, che vediamo tra un secondo, è standard, standardizzato, e quindi se andate a prendere, volete prendere la metropolitana di Londra o di Parigi, lo trovate, e quindi gli stessi algoritmi che useremo potranno funzionare anche con sistemi diversi, grazie al fatto che usino un formato standard. con un altro standard che si chiama GTFS. GTFS, di cui trovate tutta la specifiche, che andiamo anche a leggere, con l'indirizzo che è indicato qua, di veloper.google.com barra transit, è il formato di dati sul quale si basa, soprattutto, ma non solamente, il sistema che si chiama Google Transit. Cioè, tra i vari prodotti di Google, ce n'è uno che si chiama Google Transit, che è, di fatto, l'integrazione all'interno delle mappe, di Google Maps, dei dati di trasporto. Quindi, quando voi su Google Maps scegliete per andare da punto A al punto B, potete scegliere, ci vado a piedi, ci vado in auto, e per questo serve solamente la viabilità, oppure ci vado con i mezzi pubblici. Per poter fare quel tipo di ricerca di mezzi pubblici, Google ha bisogno di conoscere i percorsi, i tempi, gli orari, le fermate dei mezzi pubblici. Di tutte le città del mondo, su per giù. Ma, come dicevo, questa è una delle applicazioni che utilizza questi tipi di dati, perché nel momento in cui il formato è stato standardizzato, sono in sorte poi anche molte altre applicazioni, anche indipendenti rispetto alla Google, che usano gli stessi dati per fornire servizi diversi, magari applicazioni più locali, più limitate geograficamente. Se vi interessa, è molto bella la storia di come è nato questo GTFS, se andate a vedere sull'ultima slide qua, nei riferimenti c'è un link, the story, dove c'è un articolo, che è stato scritto dalla persona, che ha, diciamo così, ha iniziato tutto questo per questo GTFS, c'è una persona che lavorava nella pubblica amministrazione di una città e aveva dei problemi per rendere attessibili ai cittadini i dati sul proprio trasporto pubblico locale. Mi sono incontrati una volta con quelli di Google e poi da lì è nato tutto. È molto interessante anche dal punto di vista, diciamo così, dei modelli di collaborazione, dei modelli di business, come sia nata questa cosa. La cosa che di fatto fornisce informazioni o servizi di tipo gratuito è entrambi, ma quelle tipiche collaborazioni in cui hanno tutti da guadagnare. E hanno da guadagnare anche tra l'altro anche persone che non erano inizialmente coinvolte. Una paginetta di un blog da leggere può essere interessante. GTFS significa, voi credete che la G stia per Google? In realtà no. In realtà non più. Cioè inizialmente sì, poi alcuni sforgevano il naso, allora gli hanno cambiato il nome. Perché non usano standard di Google. Allora si chiama non Google, ma si chiama General Transit Feed Specification. General, l'ha messo lì perché ci vuole una parola che cominciasse con G. Transit Feed Specification. Cioè specifica dei transit feed, dei flussi di transito. Esaltate, esistono due parti di questa specifica. Una è il GTFS, vero e proprio, che sono i percorsi. Vi danno l'orario. Di fatto vi danno la mappa e gli orari. È come se voi aveste la cartina e l'orario dei passaggi di tutte le linee. Un po' la cera che noi normalmente non abbiamo in nessun formato, nessuna forma. Una volta, prima che si diffondesse così tanto internet, ma forse lo trovate ancora in qualche stazione, c'era il libro degli orari farroviari nazionali, delle farrovie dello Stato. 200 pagine scritte piccole, 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 in cui c'erano tutte le corse e tutti gli orari di passaggio delle corse, dei treni però, non del traffico locali. Il traffico locali ha molte più corse, se ne è uno in 10 minuti, vado a vendere. Ma ad esempio, in quel libro degli orari ferroviari non c'erano informazioni geografiche, coordinate, non c'era la cartina, c'erano solamente le linee. Nella cartina del GTT che abbiamo visto, ci sono le linee, ci sono le collocazioni, ma qui non trovate gli orari, gli orari trovate alla palina. Sono informazioni che parzialmente vediamo, ma qui sono condensate in un'unica rappresentazione, in unico set di dati. Completo, e che contiene la parte, diciamo così, statica delle informazioni sul trasporto, di una certa area. statica nel senso che è più la parte che cambia due volte all'anno, quando arriva il nuovo orario estivo, il nuovo orario invernale, oppure nel caso del trasporto pubblico, locale, cambia un pochino più frequentemente, magari sono delle linee, spostano un capoline, cose del genere, però diciamo che può cambiare una volta al mese con un ordine di cambiamento. Poi invece ci sono gli altri, l'altra porzione, GTFS, di cui almeno per oggi non ci occupiamo, che è quella in tempo reale. C'è l'informazione sui passaggi. Tu hai un orario che ti specifica che ora dovrebbe passare quel mezzo oggi che è martedì, e poi hai invece un'informazione in tempo reale che ti dice che oggi quel mezzo lì è un minuto in anticipo piuttosto che 5 in ritardo. Allora, quella è l'informazione usa e getta, rapida, rapido utilizzo, oggi la pubblicazione continua, aggiornamento continuo che dice i mezzi di circolazione dove sono, e cosa stanno facendo. Quindi da parte di tempo reale. Quindi, se io sto facendo un piano di percorso, domani devo andare da un punto a un altro, mi interessa chiaramente l'orario nominale. Ma se devo partire tra 5 minuti, mi interessa sapere il 10, se sta per arrivare, è già passato, e quindi mi conviene andare a una farmata piuttosto che non. e questa è una seconda specifica che è nata dopo, un pochino, un paio d'anni dopo, sicuramente. Noi cominciamo a occuparci dell'aprivo. Allora, in particolare, allora, cominciamo a aprire un po' di pagine web, così le abbiamo pronte quando andiamo a profondire. Questa è la pagina che dicevamo, gtfs, o gtfs, l'articolo che spiega, adesso andiamo a leggerlo, che spiega questo formato. Ma al di là del formato che dobbiamo imparare, poi i dati chi ce li dà? Perché qualcuno specificato, chiamiamolo standard, non è stato standardizzato o ratificato da nessuno, ma, diciamo così, una definizione data da alcune aziende che ci sono messe d'accordo. E poi i dati, perché va bene avere il formato, ma se poi mi devo mettere a mano per scrivere tutti i dati di tutte le farmate di Torino, eh, diventa lunga. Allora, per fortuna, questi dati sono da parte di praticamente tutte le agenzie di trasporti che aderiscono a questo sono pubblicati in forma aperta e libera. Se voi a quegli indirizzi che sono scritti sopra trovate due file zip a quel di sinistra e a quel di destra che sono relativamente appunto il formato GTFS del trasporto pubblico locale e il formato GTFS del servizio ferroviario di qualità. Il primo sono 30 mega zipati, quindi è un bel è un bel colpo però sono dati aperti quindi chiunque li può scaricare. Questi sono quelli di Torino. Vi interessa qualcos'altro? Vi interessano altre città? Altre aree? Siete curiosi di qualcosa? La vostra città natale? Chissà dove? Allora, c'è questo sito non è ufficiale diciamo così chiunque può creare pubblicare un file di questo genere e poi se lo vuole integrare in Google Maps deve mettersi d'accordo con Google per pubblicarlo. È chiaro che io e te non lo possiamo fare. Per esempio l'assessorato dei trasporti della città tal dei tali lo posso fare ufficialmente richiedere comunicare alla Google qual è il mio dataset per poter pubblicare le mie mappe sul loro sito attraverso i loro servizi. Ma poi indipendentemente da questo molti pubblicano questi dati in forma aperta e questo sito GTFS Data Exchange essenzialmente sono persone che si sono messe a raccogliere il link a tutte queste non sono tutti i dati che ci sono sono tutte le città o le entità che pubblicano dati quindi ciascuno di queste in realtà può averne anche diverse. Dicevamo prima Londra ci sarà? la metropolitana di Londra è qua Londra underground questa è l'entità che lo pubblica questo è il suo sito e poi c'è il file latest.gtfs file da scaricare e poi ci sono tutti gli aggiornamenti del caso in questo caso è un file solo invece la parte invece di superficie sempre di Londra è un file diverso ogni città poi le gestisce in modo diverso chiaramente bisogna andarsene a studiare andare a vedere però ciascuna di queste righe sono uno o più file scaricabili e sono tutti in questo formato gtfs quindi sicuramente ce n'è per il nostro appetito è più facile trovarlo qua che ad esempio se voi andate a cercare nonostante questi file siano pubblicati da 5T che è l'agenzia della mobilità torinese sul sito del 5T non c'è assolutamente nessun link nessun riferimento al fatto che loro pubblichano questi dati ci sono sono scaricabili se conosce il link ma a quanto pare neanche sul portale open data della regione Piemonte del comune di Torino non ne hanno pubblicati però vabbè ci sono non ne fanno molto più allora cos'è il gtfs è una specifica che dice ok i dati di transito li rappresenti attraverso un insieme di file di testo con un formato molto ben specificato dei quali i primi quanti sono 6 sono obbligatori e gli altri sono opzionali opzionali perché magari ci sono informazioni che non ti interessa fornire o non hai o per il tipo di trasporto che hai non ha senso mentre invece i primi sono obbligatori ciascuno di questi a sua volta contiene dei campi che a sua volta possono essere facoltativi e obbligatori tutto questo lo troviamo qui in questa pagina web di cui dicevo prima che ci dice allora un feed gtfs è una serie di file di testo raccolti in un file zip quindi l'unico file zippato con le cose che dicevamo prima con i link che vedevamo prima che puntavano a un file zip quello è il feed gtfs che dentro contiene dei file di testo che devono avere questi nomi di cui questi devono esserci sempre sono obbligatori e cosa contengono c'è questa pagina qua reference che ce lo spiega questi sono i file questa è esattamente la stessa slide che avevamo visto prima vista direttamente dalla fonte ad esempio c'è un file agency.txt che descrive quali sono le agenzie di transit agency le agenzie non di viaggio ma di agenzie di asporto che gestiscono i trasporti nell'area rappresentata da questo file e il file agency.txt contiene dei campi che sono un id per l'agenzia un nome un indirizzo web a cui far riferimento per questa agenzia la time zone cioè in quale fuso orario lavora e poi alcuni altri campi opzionali come la lingua parlata il numero di telefono eccetera eccetera e poi una urla per l'acquisto dei biglietti clicchi lì e vai alla pagina web di acquisto agency il più interessante o perlomeno quello su cui è più facile partire facendo ragionamenti sono gli stops sono le fermate senti presente che questo formato di file deve valere per metropolitano treni autobus tram porto a cavallo navigazione sui fiumi traghetti no porto a cavallo non lo so ma fiumi traghetti si quindi usa dei termini abbastanza generali stop è definito come un luogo specifico dove i veicoli prendono o posano i passeggeri una fermata e queste sono le informazioni che mi servono di una fermata beh un ID eventualmente un codice stop code è quello che vedete nel caso di Torino scritto sulle paline ogni fermata ha un numero 1306 602 che è il numero che tu puoi vedere che non è l'ID del database interno il database chissà quale sarà però è un valore numerico un piccolo testo un numero che identifica unificamente la fermata per i passeggeri che sono quelle che servono magari per fornire i valori di tutti i passeggeri poi c'è il nome della fermata Luca di Abruzzi Politecnico il nome che si dà alla fermata eventualmente la descrizione della fermata se il nome non basta ma questo è opzionale e poi l'altitudine e longitudine della fermata dove si trova sulla mappa eventualmente l'ID della zone per la città dove la tarifazione è fatta a zone Torino non ce l'abbiamo eventualmente un auro di una pagina web con cui si possono vedere i dettagli di quella fermata altri campi vabbè opzionali non andiamo a ce ne sono non andiamo a dettagliarli l'unico di cui voglio parlarvi è questo qui ma poi non ci torniamo troppo Parent Station perché se ci pensiamo le fermate ok sono luoghi individuali dove i passeggeri possono salire e scendere ma a volte ci sono degli agglomerati di fermata pensate Porta Nuova Porta Nuova c'è la fermata della ferrovia c'è l'autobinario c'è la fermata dove passano gli autobus in via Sacchi la fermata dove passano gli autobus in via Nizza gli autobus in Corso Vittorio la metropolitana sotto terra sono tutte fermate diverse ma fanno parte di un unico complesso stazioni allora in qualche modo chiaramente se hai un algoritmo automatico devi dirgli che in realtà se tu scendi che ne so col 4 col 14 in via via Sacchi poi è facile da lì fai due passi e arrivi alla metropolitana perché sono lì perché sono collegati oppure la fermata il luogo dove si ferma la metropolitana Porta Nuova è lo stesso dove fermano i treni cosa che non è scontata perché se voi prendete la stazione Lingotto della metropolitana la stazione Lingotto delle ferrovie sono a montare un chilometro nonostante si chiami in nessun modo allora questa informazione qua viene codificata da questo campo parent station dice beh questa fermata è una fermata interna a una stazione o una fermata esterna rispetto a una stazione oppure è lui una stazione e quindi contiene altre fermate e quindi di fatto in realtà abbiamo due livelli di fermata la fermata vera e propria e la stazione che a sua volta contiene altre fermate interne questo noi gestire questo complicherebbe abbastanza le cose quindi facciamo finta di nulla sono le fermate allora questo qua sono i punti di fermata dopodiché ci sono i veicoli che fanno dei viaggi dei percorsi i percorsi sono descritti in un file che si chiama route che sono le corse io lo tradurrei le corse sono più facili da capire se pensiamo ai treni che è un treno che passa a certi orari il treno che passa alle 8 è diverso da quello che passa alle 9 sul trasporto locale urbano noi come utenti non abbiamo quella percezione sai che l'auto il 10 passa all'incirco in 10 minuti così sembra che passi che intanto quando non voglia partono più o meno in media passano in realtà anche il trasporto pubblico locale ha degli orari perché tu devi avere al mattino un autista che sale a dei tali che sale su quel mezzo lì specifico e sei sicuro che ci sia che sia in quel deposito non è che puoi dire ogni 10 minuti qualcuno parte per fare un giro da capolinea poi il traffico fa sì che magari la pianificazione che c'è di capolinea venga poi persa durante la strada allora abbiamo un'impressione più di valor medio che non di cadenzamento però pensate che chi decide quanti mezzi comprare quanti autisti chiede di fare i turni eccetera deve avere esattamente il numero di corse che verranno fatte per ogni autobus quella giornata nella giornata di oggi di domani del 58 quante corse ci sono esattamente ciascuna è numerata e ha un orario nominale di partenza che poi viene rispettato nostro abbiamo il sì ma quella è la corsa poi le cose sono dinamiche perché a volte quando c'è tanta resta aggiungono un pulmone in mezzo fanno delle altre cose vabbè quelle sono fuori orari però a monte c'è un orario ben preciso queste sono le 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 root che definiscono essenzialmente il nome c'è un id di root poi notate una cosa che ho detto prima quasi sempre in quasi tutte le tabelle c'è sempre una gcd in più un campo in più che è una chiave esterna sensizialmente che permette di disambiguare se noi abbiamo la linea 10 di Torino e la linea 10 di Milano, si chiamano entrambe linea 10 però sono gestite da agenzie a monte diverse quindi per poter far convivere dati provenienti da agenzie diverse tutti i dati più di dettaglio hanno sempre in più, hanno la loro chiave primaria i loro ID, che però non è detto che sia un iboco nel mondo è un iboco all'interno dell'agency ovviamente le agenzie devono essere la combinazione dell'agency e dell'ID specifico della tabella, invece questa combinazione deve essere un iboco questo ci permette di poter caricare nel nostro programma anche più file di agenzie diverse, quelli ziplin scarico 3, 4, 5, concatena i file il testo e tutto funziona le corse come vedete hanno un nome poi vediamo degli esempi, è sui dati veri descrizione, il tipo e qua ecco vedete nel campo type è l'unico campo in cui effettivamente si dice che cos'è questa cosa è gondola non è la gondola veneziana ma sono le ferie un veicolo sospeso o la funicolare o vabbè gli altri il traghetto cable car sono quelle che mi viene in mente nel San Francisco sono una specie di tram in cui non hanno un motore ma hanno un braccio meccanico che si infila c'è una fessura nell'asfalto sotto la strada gira una fune per cui il mezzo cos'ha? questo braccio meccanico che è infilato in questa fessura questo braccio chiude prende si aggancia alla fune e il mezzo viene imparinato un po' però funziona è un po' una teleferica contrario col cavo in basso anziché il cavo in alto c'è di tutto questi dati solo questo è l'unico campo di tutto il GTFS che ti dice essenzialmente su che tipo di mezzo devi salire vabbè poi se vuoi il colore che colore vuoi colorarla eccetera ecco la prima volta che ho guardato questo specifico ho detto ma poi questa cosa qui dove va dove passa e qui non me lo dice questa è la linea la linea poi è fatta di tanti passaggi ingenuamente uno pensa che è la linea che definisce quali sono i passaggi quali sono le fermate di cui è composto in realtà non è vero perché su una stessa linea passaggi diversi potrebbero avere fermate diverse anche in campo urbano ci sono alcuni autobus che magari nell'orario scolastico fanno un giro diverso leggermente diverso per portare a prendere le ragazze a scuola oppure quando c'era la Fiat nell'orario di entrata e uscita c'erano delle fermate in più sul capolino del 10 andava più avanti rispetto a prima mentre quando non c'era l'orario di entrata uscita al lavoro quindi pur essendo la linea unica la stessa le fermate che faccio dipendono dalla corsa e quindi le fermate vengono definite non a livello di linea ma a livello di route ma a livello inferiore a livello dei trip quindi lui dice che una route è un insieme di trip che sono visualizzati come un servizio unico cioè la linea 10 la metropolitana è una poi è fatta di tanti trip che sono i viaggi presenti in ciascuna route in ciascuna linea un trip è una sequenza a questo punto di due o più fermate a specifici istanti di tempo quindi esempio un trip dice che è fatto 3PD il viaggio 27 della linea 10 in che direzione va head sign è quello che c'è scritto di fronte all'autobus uguale alla scritta che lui mostra di fatto non è di solito il nome del capolinea la direzione shape pd fa riferimento ne parliamo tra un attimo fa riferimento a come disegnare la linea disegnare il percorso su una cartina c'è un file diverso è un file separato in cui ci sono informazioni vettoriale dei punti da collegare però anche questo continua a non darmi le fermate perché le fermate ce l'hanno gli stop time legati alla trip se vi siete persi vi capisco le fermate quindi dicono che questa trip identificata dall'ID arriva a una certa ora e riparte eventualmente a una certa ora che può essere stessa o no a una certa fermata allora route immaginiamo la metropolitana trip è il quarto giro della metropolitana stop times è le singole fermate del quarto giro della metropolitana ciascuna delle quali avrà un istante di tempo un orario previsto e una fermata questi stop times dicevano lo stop ID la stop sequence cioè in che ordine tocca le varie fermate la prima la seconda la terza la quarta la quinta fermata di quel trip di quella route e beh poi gli altri campi sono opzionali quindi il percorso è descritto in dettaglio ma questo descrive in dettaglio comporta una certa complessità di passaggio poi proviamo a seguire direttamente nei file vi parlo ancora dell'ultimo file diciamo obbligatorio che è il calendar calendar.txt dice in quali giorni della settimana quel determinato servizio viene effettuato quindi è un campo in cui ciascuna colonna c'è una colonna per lunedì una per martedì una per mercoledì e ciascuna può essere 0-1 per dire il mercoledì c'è o no in realtà non lo definisce per ogni singola corsa ma definisce un concetto di servizio service id che potremmo dire servizio lo potremmo chiamare feriale festivo giornaliero diamo dei nomi simbolici dice beh quel nome lì corrisponde a questi giorni della settimana e poi le singole se non sbaglio trip hanno un service id di riferimento dicendo questa qua è la corsa 10 feriale questa è la corsa 10 festiva quindi sono due trip diverse che fanno riferimento a due service diversi che permettono di determinare se in quel giorno della settimana quel mezzo sta girando oppure no nel caso dei giorni della settimana normali perché poi ci sono i giorni speciali le feste il primo maggio 25 aprile eccetera eccetera che sono elencati come eccezioni un altro file calendar dates dice che guarda in quella data ci sono delle eccezioni per cui quello che non dovrebbe esserci in realtà viene fatto oppure quello che non dovrebbe essere fatto in realtà viene fatto allora questa qua è la specifica proviamo a vedere qual è il formato di questi file è il formato con cui sono indicati questa specifica dice quali sono le informazioni che sono presenti in ciascuno di questi file e poi come sono formattate sono formattate in formato csv csv sta per comma separated value è un formato di testo che serve essenzialmente per memorizzare tabelle bidimensionali immaginatevi un file excel in cui i dati vengono quindi righe e colonne in cui i dati vengono salvati un file di testo in cui ogni riga del file di testo corrisponde alla riga della tabella excel e le colonne della tabella in realtà sono identificate da un grado separatore che è la virgola quindi i vari campi i vari valori sono separati da virgole questo è un pezzettino ma forse è tutto del file root.txt dellsfm dove c'è la prima riga che contiene i nomi dei campi che devono essere obbligatoriamente uguali a quelli della tabella perché è necessario elencare i nomi dei campi ma perché nella specifica alcuni campi sono opzionali quindi chi legge il file deve sapere se il quinto campo c'è o non c'è o se c'è il quinto e non il sesto quindi deve sapere che ne salta uno e mezzo quindi la prima riga dichiara quali sono i campi presenti e poi le righe successive contengono i valori quindi esempio qua questo 2 che cos'è questo 2 messo qua sotto allora andiamo a contare è il primo secondo terzo quarto il quinto campo è vuoto il 2 è il sesto campo il sesto campo cosa rappresenta? andiamo sulla prima riga 1,2,3,4,5,6 il root type quello che dice che questo è un treno e non è un autobus qui si leggono così questi file voi potete per immaginarvi meglio spostarvi di pensare che le incordonate vanno a dire se aggiungete degli spazi in modo che i caratteri di virgo sono incordonati l'uno all'altro è più leggibile dal punto di vista tabulare questo è un formato molto semplice e di fatto con qualunque linguaggio con qualunque programma si possono leggere o scrivere file in questo modo l'unica difficoltà è cosa succede se per caso in uno di questi nomi praticamente nel campo di descrizione c'è già la virgola allora in questo caso il campo si mette tra virgolette da doppi apici per proteggere un'eventuale virgola che deve far parte del valore e non essere interpretata come separata quindi proviamo a vederne uno di questi aprirlo direttamente in un editor prendiamo questo qua dell'SFM questo è il file che ho scaricato tale e quale fatelo mettere in una cartella temporanea quindi andiamo a vederlo lo scompattiamo e questi sono i file che descrivono l'SFM dicevo root.txt no scusate partiamo dall'inizio agency.txt agency è quello che dice quali sono le società di trasporto in questo caso ne indica due una si chiama gtt underscore f immagino che voglia dire carrovie e l'altro FS questo è l'agency ID poi c'è agency name gtt è per l'Italia esattivamente agency url sono queste url qua agency time zone in quale fuso orario sono dati gli orari sono definiti gli orari di questa agency fuso orario euro rom language in che lingua sono fornite le informazioni italiano numero di telefono il gtt ha messo il suo quello di FS non c'è eccetera eccetera non c'è nessuna urla è un sito che permette di acquistare i biglietti quindi io ho scaricato il file SFM che mi dice che le sue informazioni sono gestite da queste due quali corse contiene quali tratte contiene le root sono queste SFM1 poi guardiamo sempre le virgole SFM1 pont che è una linea diversa è gestita sempre da gttf e questo invece è il nome vedete che qua c'è un SFM1 che è l'ID vero e proprio e poi questo SFM1 è ripetuto qua cosa indica allora andiamo a leggere 1,2,3 root short name e questo è il nome che vedete sui tabelloni lo chiama sempre SFM1 ma dal punto di vista loro interno è diviso in due parti uno si chiama SFM1 e l'altro SFM1 pont perché magari sono pianificate in modo diverso ma all'utente è visibile questo poi c'è SFM2 SFM2 bus la 3 SMF3 Bardomecchia SMF3 bus SUSE SMF4 eccetera eccetera queste sono le route quindi sono le linee ferroviarie le route sono fatte di abbiamo detto di andiamo a vedere prima prima di vedere come sono fatte le route andiamo a vedere gli stop stop sono le fermate stop ID sono questi sono di fatto hanno scelto qua il nome della città più o meno abbreviato poi c'è stop name invece è il nome visibile della città l'attitudine e longitudine e non c'è altro quindi il route abbiamo i nomi delle linee ma non ci dice dove passano stop abbiamo i nomi delle stazioni e la loro posizione ma non ci dice quali linee passano ancora avviciniamo queste due informazioni le avviciniamo partendo da trip trip sono tutti i viaggi che avvengono su ciascuna linea allora quando vedete che sulla linea route ID SFM1 ci sono questi il trip di il terzo campo questo 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 sono tutte le corse diverse qui c'è il numero del treno il numero di treni li vediamo in stazione li dichiarano sono scritti queste sono tutte le corse dell'SFM1 il campo precedente è il service ID quello che dice in quali giorni della settimana viene svolto fer 5N fer 5N fer 6 cos'è fer 5N e cos'è fer 6 andiamo a vedere in calendar calendar dice che fer 5N si svolge di lunedì martedì mercoledì giovedì venerdì non di sabato domenica nel periodo che va dal 15 dicembre 2013 al 7 giugno 2014 date scritte anno mese giorno quindi questo è un filtro che dice guarda quella trip ha senso solamente in quei giorni della settimana in quel periodo del calendario 7 giugno quindi l'8 giugno dobbiamo andarci a scaricare il file nuovo per vedere come cambiano le corse mentre invece fer 6 sarà feriale su 6 giorni infatti viaggia dal lunedì al sabato solo escluso la domenica e così via giornaliero viaggia tutti i giorni festivo solamente i giorni di festa la differenza da festa e festenne non c'è qua non so perché se li abbiamo chiamati in modo diverso ma fa la parte sarà festivo notturno immagino probabilmente ok e queste sono le varie trips dove ferma una trip noi sappiamo che questa linea qui questa corsa qui che si chiama sfm 2034 barra 5 che ha come capolinea il head sign che c'è scritto sul treno sul treno non scrivono niente ma facciamo finta scritto sui tabelloni stazioni destinazione rivarolo trip short name è il nome che viene visualizzato quindi il nome completo è questo invece il numero del treno che è visualizzato è questo la direzione è rivarolo trattino chieri r quindi ritorno una direzione di ritorno invece invece altre sono rivarolo trattino chieri andata da qualche parte sotto ci sono quindi il nome è una stringa che identifica il verso di percorrenza perché non hanno messo 1 0 andata ritorno è perché le linee non sono sempre tutte dritte pensate al 16 che ha un percorso circolare circolare destra si chiamano non andata ritorno ma circolare destra circolare sinistra altri casi la maggior parte della città che hanno metropolitano articolata ci sono delle linee che nel campo centrale hanno un percorso unico e poi si biforcano quindi in realtà su una linea insistono due tipi di quattro direzioni due per andare due per venire in funzione di come si biforca l'infermità è complesso più ci pensiamo più ci accorgiamo che ci sono complicazioni ma va bene è così dicevo queste sono le corse le singole corse che hanno delle fermate e finalmente arriviamo in stop time allora se io vado a prendere uno di questi che mi piace che ne so prendiamo questo qua a caso e vado in stop times a cercare dove compare questo signore vedete che questo è il nome del trip del viaggio e associato al viaggio mi da l'orario di arrivo l'orario di partenza in questa fermata quindi questo uno dice questa è la prima fermata che fa questo viaggio questo trip questa corsa ferma a Rivarolo alle 17.54 poi a Feletto alle 17.59 riparte un minuto dopo ferma a Bosconero come terza fermata e così via e poi va avanti così fino ad avere l'ultima fermata in questo caso a Chieri come tredicesima fermata solo qui solo dagli stop time riesco a capire come è fatta la linea cioè quali sono le fermate che sono collegate tra di loro adesso vedrete che in questo caso per la linea per tutti per la maggior parte dei trip della stessa linea l'insequenza delle fermate sarà sempre la stessa perché c'è quella linea che ferma in tutte le stazioni quelle sono tutte le volte che vai tutte le volte che viene ovviamente i tempi di fermata sono diversi ma le fermate si ripetono quasi sempre in modo uguale ma non è visto questo formato non è obbligatorio noi possiamo decidere che la corsa delle ore 13 non ferma a Bosco Nero perché non lo so perché è così e quindi ogni corsa ha la definizione delle fermate da cui passa e questo va avanti chiaramente il file più lungo questo perché sono tutte le singole fermate di tutte le singole corse di tutte le singole linee questo è il vero orario il resto sono metadati sono dati descrittivi che ci permettono di interpretarli ma questo è ciò che dice che ci sono 5.357 fermate al giorno mezzi che si fermano da qualche parte nella giornata per la parte ferroviaria quindi questo è il formato che noi vogliamo elaborare poi ecco un cenno solo perché in realtà il file più grosso non è quello dei stop times ma quello dei shapes a noi interessa abbastanza poco ma se facessimo grafica una shape è la descrizione di una linea spezzata poligonale che disegna il percorso della linea quindi questa linea che si chiama noi guardavamo la SFM1 Rivarolo Ingotto Chieri è composta da una serie vedete che il primo campo è sempre uguale e poi sono ripetuti dei numeri che sono delle coordinate quindi è una linea disegnata in cui do le coordinate dell'angitutto di latitudine dei vari puntini da cui passare perché noi abbiamo già le coordinate delle stazioni ma poi tra una stazione e l'altra non vado in linea retta vado attraverso un percorso poligonale che viene approssimato qua da una poligonale ma questo mi può servire per due scopi il primo è capire quanto è lungo effettivamente in chilometri è un percorso che non è a distanza cartesiana dalle stazioni e l'altro è disegnare vera e propria la stazione vedete che qua questa linea qua è l'ingotto Chieri a 13 fermate l'avevamo visto prima mi pare sia la stessa linea non l'ingotto Chieri noi guardavamo la Rivarolo il ponte Rivarolo aveva vabbè una linea che abbiamo visto prima Rivarolo chi è quella che abbiamo visto prima aveva 13 fermate ma la linea poligonale che lo descrive ha eh sarà che fa dei giri tortuosi ma no questo è già ritorno aspetta l'andata finiva no no sempre R 339 puntini ma con questo se noi fossimo Google Maps potremmo disegnare la sua allora questo file diciamo ci interessa abbastanza poco in questo caso eh se poi andiamo a prendere invece la i trasporti pubblici locali di Torino avremo i file nello stesso identico formato sono solamente un pochino più grassi cioè tanto per guardarlo per farci un'idea di quanto sono grandi copiamolo qua in carta temporanea lo spandiamo qui vediamo ad esempio top times sono 75 mega file di testo che corrispondono dando un po' di pazienza prima avevamo visto che erano di tempo poverino erano 3.000 no 5.000 3.500 fermate qua siamo 3.500 5.300 fermate nelle ferrovie qui invece ne abbiamo cos'è questo numero? 2.170.000 servizio urbano di Torino le fermate di stops sono 7.200 fermate diverse punti diversi della città in cui si ferma qualcosa quindi siamo già mentre invece nell'altro eravamo a 100 rispetto a 7.000 quindi siamo quasi due ordini di grandezza in più questo motivo per cui partiamo dal servizio metropolitano che è meno interessante perché come topologia è più semplice è una topologia a stella ci sono le sezioni centrali poi ci sono le linee però perlomeno sono dati ragionevolmente più gestibili più gestibili domande di curiosità timori sono dati più gestibili ragionevolmente se non fosse che questo CSI chi se l'ha fatto fare no? però sono così i dati dobbiamo leggere sta roba oppure no allora io vi racconto un po' la storia ma perché la facciata poi di costruire in altre condizioni visto qua hai due possibilità o ti metti lì di tanta pazienza a fare un bel DAO che legge tutti questi file legge i campi tra gli oggetti facendo attenzione perché sembra facile qua però ad esempio il discorso dei campi opzionali tu sai se un file che è scaricato la colonna opzionale ce l'ha o no quindi quando apri un file devi leggere la prima riga capire le colonne quindi secondo le colonne che ci sono devi aspettare un tal numero di campi nelle righe successive ma appare sulla colonna giusta per ogni file diverso poi crede gli oggetti che hanno dei campi o no poi questo file è fatto anche male infatti la prima volta che l'ho importato non funziona tutto perché ad esempio qui c'è virgola spazio virgola che è sbagliato perché vuol dire che questo campo qua in mezzo dovrebbe essere una stringa che contiene uno spazio solo mentre invece in formato in CSI sono dei campi vuoti che possono mettere più virgoli uno dopo l'altro lo spazio in mezzo non serve chi sa perché l'hanno messo con il programmino che lo generava così come qui c'è la virgola in fondo la virgola in fondo vuol dire che dopo questa c'è ancora un campo che è vuoto in tanti casi particolari però ci si mette lì con tanta pazienza si apre questo file e si legge oppure prima di farlo ci si chiede ma aspetta un attimo non è che qualcun altro l'ha già fatto visto che questo è un formato diciamo così standard internazionale andiamo a vedere se c'è qualcosa in giro che ci aiuta a leggerlo eventualmente o a gestirlo o a importarlo o a cose di questo genere questo qua è solamente un disegnino che ho trovato in giro che riassume le relazioni tra questi file di testo un po' il percorso che abbiamo cercato di fare noi questo riassunto in un disegnino da parte di uno che disegna meglio di me diciamo invece per quanto riguarda come far leggere questa roba c'è un progetto che si chiama One Bus Away che non ho ben capito se sia ancora vivo oppure no ma era un progetto di fatto di un'azienda che voleva vendere a delle città dei servizi logistica avanzati quindi aveva tutto un portale e questa cosa qui il progetto One Bus Away fresh real time internet information for the region ha le sue belle app insomma funziona su alcune città e oltre la buona dose di pubblicità che c'è sempre questa mta.info di fatto è un'applicazione che hanno fatto questi signori su cui vabbè non mi soffermo troppo perché non so cosa faccio è un'applicazione diciamo così di viaggio ma al di là di questo questi signori hanno sviluppato buona parte di questo sistema in modalità aperta open source per cui se andate qua in questo sito github.com che è uno dei siti di condivisione di software open source c'è un wiki che spiega come funziona come fanno come utilizzare i loro dati come utilizzano le applicazioni eccetera eccetera e come fare a comprare i loro servizi se vi interessa tra queste risorse online che ci sono ce n'è una tra tutti questi diciamo file di questi progetti c'è un sottoprogetto che si chiama gtfs modules cioè loro fanno tante cose l'interfaccia utente la grafica l'applicazione mobile eccetera eccetera dentro a un certo punto hanno una parte di codice che gestisce il formato gtfs che è in grado di leggere con i file e distribuiscono anche a parte come sottoprogetto solamente queste librerie e sono fatte in java ovviamente perché l'ho cercata in java non ci sono per tanti altri linguaggi veramente mi interessava una libreria java quindi questa è la libreria che ci serve un one bus away gtfs modules che contiene io quando ho visto questo ho detto sono a posto legge e scrive file gtfs come oggetti java è in grado anche di leggere i dati gtfs dentro un database sql e poi ha dei programmini per cancellare aggiungere importare eccetera e farà fusione di vari gtfs allora questo è quello che mi serviva e in particolare mi servivano due cose da questi signori allora io ho scaricato questo progetto gtfs ma è troppo complicato per noi questi sono nel momento in cui lo scarichi sono i progetti che vengono giù e clips in realtà già anche solo scaricare questo è complicato è troppo complicato per noi per ciò che facciamo qua perché di fatto non si tratta di scaricare una zit come quello che vi diamo noi a scarica in porta del progetto in eclips perché sono dei progetti che sono innanzitutto gestiti su sistemi di questo github è un sistema di versionamento del coli per cui è possibile ci sono tutte le varie versioni del software quindi tu scarichi giù l'ultima con delle con questi indirizzi qua usato questo sistema git che è il sistema l'ultimo nato tra questi vari sistemi di versionamento di codici tra l'altro è abbastanza complesso che eclips è in grado di integrare il problema è che se io scarico solamente questi file mi mancano una tonnellata di librerie che sono le dipendenze le librerie su cui questi progetti si basano allora questo signore ma come molti diciamo sviluppatori che sviluppano più serio hanno gestito queste dipendenze attraverso un altro strumento che si chiama Maven non chiedermi come deve essere pronunciato se scrive Maven che è di fatto un formato descrittivo in cui guarda nel mio progetto questo mio progetto dipende da che ne so dalla libreria di Geografi dalla libreria di DBC da questa altra libreria e dico dove queste possono essere trovate dove le persone si scaricate che potrebbero essere sul mio server perché mi sono messo una copia oppure altrove magari da chi è pubblica allora questo Maven Eclipse ha chiaramente un plug-in per gestire questo Maven tu gli dai gli indirizzi dicendo guarda importa questo progetto con Maven lui va a leggere e per i prossimi 20 minuti si scarica dei pezzi e alla fine fa il progetto scaricando il server allora io non voglio fare queste cose con voi perché se no soprattutto poi in laboratorio ci incasiniamo allora il lavoro che ho fatto è quello di prendere dei pezzi e semplificarli per noi in modo da poterci lavorare ma la cosa che mi interessava vedere con voi perché poi lo usiamo è questi sono i vari progetti dentro tutti i progetti nel package org.onebusaway.ctfs ricorda che io ho un po' sempre le scatole quando creiamo un nuovo progetto mettiamo sempre dei nomi di package che abbiano senso non lasciamo il package application punto perché poi questa cosa qua gira qualcuno la scarica qualcun altro la usa e se si chiama il tuo application non capisci più nulla questo progetto questa libreria che non è un progetto intero di fatto può fare almeno due cose diverse una è gestire i file gtfs direttamente dai file gestire i dati gtfs direttamente dai file di testo lavorare direttamente con il csd oppure può gestirli su un database di fatto chi ha sviluppato la libreria ha portato avanti in parallelo ai due tipi di implementazione i file di testo normalmente se li legge in memoria il suo database invece fa le quelli quando serve questo come sottoprodotto ha anche il fatto che c'è una utility per leggere i file csv e salvare le tabelle sql che è poi questo che serve le librerie con cui questo progetto accede al database noi sappiamo usare perché non usano direttamente jdbc come facciamo noi ma usano un livello di object integration mapping che si chiama hibernate che di fatto crea le query in automatico per mantenere allineati gli obiettivi java e invece le tabelle sql questo non riusciamo a vederlo nel posto quindi noi non riusciamo purtroppo a sfruttare i dao che ci sono qua ma la cosa sicuramente interessante è che riusciamo abbastanza a orientarci anche se è un progetto che come vi dicevo è più complicato di quelli che riusciamo a gestire noi riusciamo abbastanza a orientarci ad esempio salta all'occhio questo package che si chiama model questo package che si chiama model contiene dentro una valangata di classi che sono dei bing abbiamo detto c'era cosa ci ricordiamo stop stop stop.java e stop.java cosa ha dentro è dentro stop.java ha dei campi che sono legend cd name attitudine longitudine codice descrizione zona la urla eccetera eccetera quindi il lavoro che avremmo fatto noi vai a prenderti le specifiche gtfs e costruisci tanti oggetti che hanno i stessi campi con i costruttori il get il set eccetera eccetera e così anche stop time hidden sono singole orarie di fermata l'oggetto che si chiama stop time che ha questi campi che è appunto il numero di sequenza l'head sign del bus l'ora di arrivo l'ora di partenza dove sono finite ah arriva il time departure time eccetera eccetera poi qui dentro non guardate questa parte qua la csv chioccio la csv field perché è una notazione che serve le librerie di urm per mappare quel campo lì sulla colonna specifica del file csv questa è la parte che noi non capiamo perché ci sono dentro dei livelli intermedi di gestione dei dati che noi non abbiamo imparato ancora a gestire quindi non li vediamo quelli però di fatto trovarsi già i bing già belli che fatti è un bel lavoro in meno quindi in questa package model ci sono tutti i bing poi c'è una package services dove vengono dichiarati vedete che deve essere DAO il fatto di usare dei pattern di programmazione usare dei nomi convenzionali ci aiuta poi a orientarci in moltitudine di classi che magari a prima vista non conosceremo ma se gtfs DAO è una classe che mi verrebbe voglia di andare a vedere infatti gtfs DAO dentro ha metodi di base per accedere all'entità gtfs ma guarda un po' get all agencies non lo sarei mai aspettato get all calendars get all e ci sono dei get all per tutti e poi per ciascuno c'è un get agency for ID c'è la ricerca look up sulla base dell'ID i primi metodi che fai in un DAO dammi un elemento se ti do la chiave o dammi l'elenco di tutti questo ovviamente è un'interfaccia non è ancora una classe poi questo gtfs DAO quindi sono i metodi che deve avere il DAO viene implementato c'è una classe impl c'è un package impl che contiene le implementazioni e qui c'è un gtfs DAO impl c'è l'implementazione dei metodi di sopra di qui sopra questa è un'altra parte che noi non sappiamo fare perché di fatto questo DAO è un po' fasullo perché tutti i metodi in realtà vengono rimappati su un get all entities for type che è un metodo di un abbastanza complicato in cui vado a fare reflection vado a vedere il tipo della classe e quindi faccio la query giusta usciamo dalla parte di java che conosciamo quindi l'implementazione sicuro non possiamo usare questo ma l'interfaccia si nel senso che per doverci inventare dei metodi tanto vale copiare o copiare essenzialmente quelli che qualcun altro ha già pensato è un DAO abbastanza stupido questo in realtà c'è un altro che si chiama un'altra interfaccia che chiama relational DAO dove ci sono dei metodi un pochino più avanzati get roots for agency è già di fatto fanno già le join tra diversi informazioni mentre le altre get stop for station è già un'interrogazione un pochino più articolata che non dà semplicemente l'elenco delle affermate l'elenco delle stazioni ma il primo passo per noi quindi questo è una buona luogo da cui andare a pescare ciò che ci serve non possiamo prendere tutto il progetto così com'è perché uno è troppo grosso troppo complicato è una delle parti di java che non conosciamo quindi mettiamo il nostro agio ma per andare a prendere a man bassa le parti che ci servono è sicuramente utile l'altra cosa quindi noi ci ricostruiamo ciò che serve a noi quindi i nostri bing i nostri DAO a modo nostro andando a rubare da qua l'altra cosa che noi vogliamo lavorare su database allora l'accesso al database che fanno questi signori passa attraverso ibernate che noi non conosciamo vedete che c'è un progetto apposta One Buster Wage ibernate che contiene essenzialmente quelle che sono le parti di implementazione e di interfaccia per legare ai bing di sopra le tabelle del database chiusa parentesi su ibernate perché sarebbe mezzo costo solo su quello anche se alla lunga sicuramente è un investimento che paga quindi consideratelo qua non lo facciamo ma consideratelo la cosa che è in grado di fare questo questa libreria è anche quella di creare un modello relazionale delle stesse informazioni questo si fa vabbè uno dei modi per farlo è usare un programmino che danno a disposizione a loro c'è questa One Buster Wage GTFS e ibernate CLI CLI sta per Command Line Interface c'è un programma a linea di comando interfaccia a linea di comando che fa un lavoro solo prende un GTFS quindi una cartella con quei file di testo dentro e li mette in un database li converte in un database quindi l'operazione che ho fatto è di usare questo programmino che si carica da quella pagina di sopra e che si chiama One Buster Wage GTFS cybernet CLI tan 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 punto jar e dare questo comando java poi gli devo dare nel class pack ovviamente lui stesso e il MySQL connector perché lui nel jar non è che può averlo perché non lo sa se io uso MySQL o un database questa è la classe main GTFS database loader main e poi gli passo un po' di parametri che di fatto definiscono la connessione del database il driver la JDBC URL il credenziale di accesso questo è sempre tutto uguale ciò che cambia sono due parti in rosso quella in alto è il nome del database MySQL che voglio creare anzi in realtà devo crearlo a vuoto poi lui le tabelle le crea dentro però il database deve esistere già quindi io nel mio database creo il database e uso il nome del mio database e poi alla fine invece alla fine c'è il nome della cartella nel quale sono stati scompattati i file zip qui ho messo punto perché è la cartella corrente ho lanciato questo comando la linea di comando dentro la stessa cartella in cui avevo scampattato i file ok ciò che fa questo comando se gli date poi un quarto d'ora di tempo per lavorare quello della città anche di più quello del settembre ho pochi minuti ma non stiamo a ripeterlo ripete l'operazione ma non è quello di popolarmi questa database con le tabelle che corrispondono alle stesse informazioni ma l'operazione di convertire da CVS CSV comma separated values in un database relazionale che abbia la struttura giusta tutte le relazioni eccetera eccetera per fortuna ce l'abbiamo già fatta ce l'abbiamo trovato già fatta non è stato semplicissimo capire dove come ma ce l'ha fatto qual è il risultato il risultato è questo è un database fatto così ma questa è la rappresentazione grafica delle tabelle del database questo l'ho usato se qualcuno vuole saperlo col MySQL Workbench quello della Oracle che ti permette una volta che hai un database già esistente tra le varie cose puoi fare il reverse engineering cioè legge il database estrai quali sono le tabelle e poi ti puoi anche farla te lo puoi anche visualizzare graficamente poi devi posizionare in modo che si capica qualcosa quindi questo disegno qua non l'ho fatto io a mano ma me lo sono fatto generare dal dal Workbench MySQL Workbench e qui abbiamo ciò che ci aspettavamo nel senso che abbiamo dunque agencies da qualche parte che si chiama GTFS agencies la chiave primaria i vari campi le route agency d id della route id dell'agenzia vedete che la chiave primaria doppia cambiamo un pochino la chiave primaria doppia e poi ci sono tutti i vari campi poi la route è legata al trip ai singoli viaggi quindi ogni viaggio ha l'agency d sempre l'id del trip e poi e poi il riferimento alla route la route id il problema è che la route id non basta da solo come chiave esterna perché la route id è un campo che non è univoco quindi ogni volta che la route id devo portarmi anche dietro la gcd della route relativa le chiavi sono sempre doppie qua in questo database e questa rappresenta la relazione 1 a n ciascuna route è fatta di tanti trip e questa relazione è materializzata da questa chiave esterna cioè questa chiave route agency d e route id dicono per questa trip che è identificata dal suo id e dalla sua agency d quali sono le route id agency d id della route agency d della route alla quale questa trip è relativa e poi ci sono i stop times che sono sotto quindi le fermate di nuova relazione 1 a n le fermate i tempi di fermata i tempi di arrivo in fermata di questo trip e di questa route quindi la catena è questa a destra qua abbiamo gli stops le fermate specifiche quindi questo è stop times dicevamo il database vero e proprio che verso l'alto dice ok qual è la linea a cui appartiene verso destra gcfs stops mi dice dove si sta fermando e qui sono tutti questi campi poi vabbè ci sono anche le altre tabelle non tutte non ci sono alcune relazioni che concettualmente esistono qua hanno deciso di non crearle a livello del database quindi non le vediamo poi ci sono tutta la parte sulla tariffazione che a noi non ci interessa c'è quella parte sulle frequenze che sono le frequenze di passaggio statistiche che è una parte opzionale che può andare a complemento degli orari intermatti tutta la parte del calendario eccetera eccetera quindi questo è il database allora io ho importato questo database e ho ottenuto per l'SFM Torino questa roba qua queste tabelle qui quindi quello che abbiamo appena visto prima in formato csv qua ce l'abbiamo come database agencies questi sono i campi e questi sono i dati fs gct per fortuna sono più incolonnati perché il font è più piccolo quindi meno leggibile ma essendo più incolonnati è anche più facile leggere le root sono queste e i campi sono quelli che ci aspettavamo diciamo che anche questo database è un po' morbido nel senso che come vedete quasi tutti i campi sono opzionali permetti null questa è la colonna in realtà alcuni di questi campi sono obbligatori però chi ha creato il database l'hanno probabilmente fatto prima di dire vabbè mettiamole opzionali non è così grave nel senso che questi dati per noi sono statici e andremo sempre solo a leggere e mai a modificare e quindi la integrità referenziale non sono affatti nostri è importante che siano giute se dovessi modificare quel database aggiungerei maggiori vincoli di integrità in modo da essere sicuro di bloccare eventuali bug nel mio programma ma visto che lo devo solo leggere le route dicevamo vabbè stop times i dati sono quelli che abbiamo già visto prima ok allora noi possiamo partire da qua sul sito del corso vi ho messo già i dataset quindi tecniche di programmazione materiale qua nella parte datasets ho già messo per l'SFM il formato GTFS originale quindi lo zip con i file di testo dentro e il formato SQL quindi c'è già database SQL da importare direttamente che è quello che ho appena importato qua prima di venire e poi la stessa cosa per la città di Torino dove anche qua c'è il formato SQL io ho anche messo qua dove c'è questo link struttura delle tabelle un link a questo file pdf essendo un pdf facilmente zoomabile ingrandibile può far comodo come riferimento per orientarsi dietro queste tabelle quando uno fa le query trovo abbastanza comodo questo sulle slide c'è ma sulle slide che compare come immagine quindi non è che riesce ingrandire più in tanto quindi questo è quello con cui dobbiamo lavorare il prossimo passo è aprire un progetto Eclipse e cominciare a farci qualcosa ad esempio a fare l'esercizio del calcolo dei percorsi minimi quello che non è banale però se io dicesse ok troviamo il percorso minimo tra due fermate tra due stop usiamo pure la terminologia GTFS c'è uno scollamento abbastanza grande tra il grafo che abbiamo in mente percorso minimo tra due stop mi viene in mente un grafo in cui ci sono gli stop con le vertici e le tratte di treno come archi e questo questo è tanto diverso se io non ho da nessuna parte scritto se due stazioni sono collegate o no non c'è io so che il treno 2312 che parte dal 9.18 passa come quinta fermata da lì e come senza fermata di là allora da lì posso capire che effettivamente se c'è un treno che ci passa sono collegato per dire dobbiamo decidere quale informazione ci serve ai fini del nostro algoritmo della nostra ricerca dell'informazione che vogliamo e poi capire come estrarre questa informazione da questa massa di dati io eviterei cercherei di evitare di prendere tutti questi dati tirarsi su tutti nel modello che è certamente possibile non richiede una mola incredibile di lavoro poi non è detto che ci sia tutto in memoria soprattutto i dati più grandi ma cerchiamo di costruire i pezzettini che permettono di leggere solamente le informazioni che ci servono allora vi lascio fare l'intervallo rimuginando sulla domanda come faccio avendo queste informazioni a farmi il grafo che mi permette di calcolare il cammino il minimo il 2% adesso facciamo una pausa così vi ho rovinato l'intervallo che ci servono